Bilancio positivo nel senso che ogni giorno avverto che si aggiunge un elemento di conoscenza ulteriore che mi permette di apprezzare sempre di più questa terra e di apprezzare quella realtà di Chiesa, di fede, di vita anche sociale, di umanità che ho trovato in questa terra. Quindi diciamo che sono cresciuto dal punto di vista della conoscenza tramite tanti incontri e nello stesso tempo mi rendo conto che il mio compito è quello di essere un po' facilitatore, incoraggiatore, essere di sostegno alla vita e alla testimonianza di fede concreta nel quotidiano attraverso anche una carità, una solidarietà che si esprime in mille forme e che costituiscono la ricchezza di questa terra. Per cui credo che il bilancio è positivo, il cammino da fare è ancora tanto, siamo solo agli inizi.